Allora, salve a tutti! Oggi vediamo la soluzione di un esercizio su una rete trifase semplice. È un problema abbastanza classico per un dimensionamento, per un calcolo, una verifica su un sistema trifase simmetrico ed equilibrato, formato a tre carichi in parallelo, trifase alimentati da una linea di resistenza rattanza nota. E noi conosciamo la tensione che alimenta i carichi, che è il classico 400V concatenato. È un problema classico che vedremo e risolveremo con buscero, quindi senza scomodare calcoli complessi, perché questa è un po' la comodità dell'affrontare i sistemi simmetrici e equilibrati, che nella maggior parte dei casi, soprattutto per problemi di questo tipo, che sono un po' anche i classici problemi impiantistici, si risolvono con buscero senza scomodare fortunatamente il calcolo complesso. Questi sono i dati, abbiamo le potenze dei tre carichi, un cosfil QS tra gli altri carichi, il tipo di connessione che poi vedremo anche di utilizzare per ricavare le impedenze. Vogliamo calcolare le correnti assorbite dai carichi, la corrente totale che è quella che interesserà la linea, il cosfil totale. Vogliamo fare il rifasamento, che è un altro problema classico che bisogna saper gestire. Poi vogliamo ricavare impedenza, resistenza e rattanza di due carichi, uno con la connessione stella e uno con la connessione triangolo. E poi fare una valutazione sulla linea, valutando la caduta di tensione, che lo faremo con la classica formula della CDT industriale, la tensione inizio a linea e una valutazione sul rendimento percentuale della linea dopo il rifasamento. È un problema classico che in quarta bisogna saper fare, soprattutto verso la fine della quarta, ed è un problema che serve poi anche per lavorare sul dimensionamento di impianti. va fatto. Ovviamente facciamo anche un minimo il punto su quelli che sono un pochino i prerequisiti. Qui abbiamo una presentazione con un po' di formule e schemi per gli esercizi numerici. Diciamo che, solito discorso, un esercizio pur semplice che si risolve correttamente, semplicemente se uno ha una buona conoscenza di alcuni argomenti base. Ad esempio, deve sapere per forza la differenza fra tensione di fase e tensione concatenata. In questo caso con riferimento a un generatore connessione stella. Qui si vedono abbastanza bene le tre tensioni di fase 1, 2, 3 e le tre tensioni concatenate. Qui abbiamo fissato come riferimento per lei 90 gradi, quindi l'asse immaginario, l'asse verticale. Sappiamo che la V1, 2 è radical tre volte più grande ed è sfasata di 30 gradi in anticipo. In questo caso poi i vettori ci serviranno poco, ma almeno la relazione fra i moduli ci serve per forza. Comeppure ci serve conoscere le formule tipiche della stella equilibrata. Quindi noi partiamo dal presupposto di avere un sistema simmetrico ed equilibrato, quindi con le tre impedenze uguali. E questo ci permette di dire molto semplicemente che se le tre impedenze sono uguali, quindi carico, equilibrato e sistema simmetrico, le tensioni che sono applicate alle impedenze di fase sono tutte uguali fra loro, uguale alla tensione concatenata fratto radical 3. le tre correnti di linea che coincidono con quelle che attraversano le impedenze sono uguali fra loro, uguali a E fratto Z o, se preferite, V su radical 3 per Z. E bisogna padroneggiare il calcolo della potenza con le classiche formule, ecco, la più normale, la più comune, diffusa è radical 3 V per I per cosfi, due V e I sono la tensione concatenata alla corrente di linea, che è una forma che poi va bene anche per il triangolo. Stessa cosa per la potenza reattiva. Ecco, quindi io insisto molto sul triangolo delle potenze, che bisogna sapere bene nel caso trifase. Queste sono le formule generali. Ricordatevi anche che nella connessione stella, se volete calcolare la P e la Q, potete utilizzare anche le classiche formule 3 per R per I quadro per la P potenza attiva e 3X per I quadro per la potenza reattiva, dove R e X sono ovviamente parte reale, parte immaginaria delle impedenze, che in questo caso sono anche delle incognite. Chi non sa, ovviamente, il triangolo delle potenze, il triangolo delle impedenze, vada cortesemente a rivedersele. C'è anche un video sul canale, o se no, il classico testo, un argomento classico che trovate su tutti i testi di elettrotecnica. L'altro tipo di connessione sarà il triangolo equilibrato, che qui molto velocemente le formule che useremo saranno solite. Tre impedenze uguali, che sono sottoposte non alle tensioni di fase, ma alla tensione concatenata del generatore, quindi la V. Le tre correnti di fase, quelle che interessano le impedenze, si calcono facendo V su Z, V tensione concatenata, e poi le correnti di linea, che come al solito sono una terna equilibrata, quindi sono uguali fra loro, sono radicale tre volte più grandi. Anche qua ricordiamoci le formule per le potenze, per la P, V per IL, ricordiamoci IL è la corrente erogata dal generatore. E poi, ecco, attenzione, importante, triangolo delle potenze, solite formule, non dobbiamo sapere, teorema di Pitagora, eccetera, eccetera, ma ricordate che se volete usare queste formule, 3 per R per I quadro, dovete usare la resistenza di fase, quindi ovviamente, ma va usata la corrente di fase e non quella di linea. Idem, stesso ragionamento per la potenza reattiva, 3 per XF, parte immaginaria per IF. Tutti i calcoli che facciamo tranquillamente, senza andare a scomodare il calcolo complesso. Perché questo è un esercizio classico che si risolve senza scomodare il calcolo complesso. Ora usciamo da questo formulario e vediamo di vedere la soluzione che è stata fatta col classico foglietto Excel che ci dà tutti i risultati. Questi sono i dati del problema, 50 Hz, 400 Volt, questo è il COSFI a cui vogliamo poi rifasare il sistema, qui abbiamo l'angolo riportato in gradienti e in gradi e questo schemino avete, vedete, nei campi verdi ci sono i dati del problema, sono note tutte le potenze attive, la potenza reattiva nel secondo carico, la potenza apparente nel terzo, il COSFI del primo. Ora qui ovviamente lavorando con Excel è stato molto semplice fare una tabella completa che ci riporta con le classiche formule che abbiamo visto sul formulario del triangolo delle potenze, possiamo tranquillamente ricavare per ogni carico la P, la Q, la S, il COSFI, il SENFI e anche la relativa corrente con le formule che abbiamo visto. Quindi applicando il teorema di Boucherot, ecco, qui lo vedete insomma, questo è un piccolo remind con le formule che abbiamo utilizzato. Diciamo che i carichi sono completamente determinati se oltre alla tensione, in questo caso, conosco un paio di parametri che potrebbero essere la corrente, la potenza attiva, il COSFI, il SENFI, eccetera, eccetera, oppure le impedenze. Però servono sicuramente oltre alla tensione due parametri. In questo caso li abbiamo completamente, quindi abbiamo applicato rigorosamente il teorema di Boucherot sommato quindi aritmeticamente le P, sommato teoricamente, algebricamente, in questo caso non serve perché sono tutti tre carichi omicoinduttivi, sapete che in etroteinica i carichi sono nella stragrande maggioranza dei casi omicoinduttivi e quindi abbiamo ricavato la S totale col classico teorema di Pitagora ecco qui direttamente nella nostra tabellina. ovviamente calcolata la potenza apparente questa è la comodità del teorema di Boucherot possiamo ricavare dalla S totale che è 6196 fratto radical 3 volte V ricaviamo la corrente assorbita dal sistema 8.95 A dall'analisi del triangolo delle potenze totali quindi un triangolo realizzato non con valori generici ma con questi valori 4.000 di potenza attiva 4.732 di potenza reattiva e 6.196 di potenza reattiva si calcolano il cosfi e il senfi semplicemente facendo P su S e Q su S che sono i valori di PQS totale ricavati col teorema di Boucherot quindi molto molto semplice ricavare la I totale i valori di cosfi e senfi ci serviranno poi anche per applicare la formula CEI per il calcolo della CT sulla linea ora abbiamo supposto carico C1 stella carico C2 triangolo vedete usiamo le classiche formule qui si ripetono le formule per il calcolo delle correnti quindi primo carico stella I uguale a S su radical 3 V per I ecco la nostra corrente assorbita la Z intesa come rapporto fra V fratto radical 3 per I oppure direttamente la tensione stellata su I quindi una impedenza di 80 V che attraverso i valori del senfi e del cosfi che abbiamo ricavato nella nostra tabella possiamo ricavare dividere in parte reale e in parte immaginaria con queste classiche formule anche qua se non sapete la trigonometria del triangolo delle impedenze riguardatevelo per forza secondo carico connessione triangolo ricavo la corrente di linea con la classica S fratto radical 3 per V adesso però mi serve la corrente di fase che calcolo facendo la corrente di linea che è quello che ricavo dalla S fratto radical 3 ed è questa la corrente che uso per ricavare l'impedenza del carico triangolo come V fratto I F ecco qua la nostra impedenza di fase che con i valori di cos phi e sen phi che ho tabellato precedentemente divido in parte reale e parte immaginaria volendo dalla Z alla X si può anche ricavare l'induttanza facendo X fratto omega 2 pi greco F poi andiamo a fare la valutazione della capacità con la classica formula la potenza rifasante è potenza totale del sistema quindi 4.000 W per tangente del sistema tangente dell'angolo del sistema non rifasato meno tangente dell'angolo del sistema rifasato il valore del sistema rifasato è un dato quindi sono se impongo un cos phi 0.9 lavoro con 0.45 radianti che sono 25 quasi 26 gradi il valore ecco qui vedete qui in questa riga c'è il valore del cos phi totale il valore dell'angolo in radianti e il valore dell'angolo in gradi quindi passo con rifasamento da un angolo di sfasamento tensione corrente di un poco meno di 50 gradi a devo passare a circa 25 questo rifasamento che faccio classica formula per ricavare la capacità q c fratto 3 per omega per v quadro supponiamo che il rifasamento lo facciamo a triangolo come si fa sempre in bassa tensione e supponiamo perché l'ipotesi classica che la tensione sui tre carichi non cambi a seguito del rifasamento che è l'altra ipotesi classica che facciamo sempre che si fa anche nella pratica e nel dimensionamento poi mettiamo in campo il discorso della linea imponiamo sono dati del problema i valori di rl xl 05 03 applichiamo la classica formula dell'acidit industriale dove cos fc e sen fc sono i valori di cos fc e sen fc del triangolo dell'impedenza del carico quindi quelli totali per radical 3 per i ecco il valore dell'acidit sapete che questa è una formula approssimata che ci dà il valore della differenza fra i moduli di tensione in partenza meno tensione in arrivo quindi ovviamente se sommo alla tensione sui carichi la cdt ottengo la tensione a monte della linea lo stesso calcolo si poteva fare con buchero qui l'abbiamo fatto abbiamo calcolato la potenza dissipata sulla linea attiva 3 rl per i quadro la potenza reattiva sempre sulla linea 3 x l per i quadro abbiamo calcolato la potenza attiva reattiva del sistema linea più carico PLC sta per sistema linea più carico potenza attiva reattiva col teorema di Pitagorio ricaviamo la S ed ecco che la V1 cioè la tensione in partenza dalla linea si ottiene come la potenza apparente del sistema linea più carico fratto radical 3 per i dove i è la corrente in campo sulla linea questo dovrebbe essere un valore un po' più preciso di questo che è una formula approssimata ma vedete che la differenza è trascurabilissima con questi valori abbiamo ricavato anche il rendimento della linea come rapporto fra la potenza del carico quei famosi 4000 watt fratto la potenza del carico più la potenza della linea ecco 0,97 per calcolare il rendimento della linea dopo il rifasamento non serve come spesso molti sbagliano a fare rifare tutti i calcoli del teorema di Boucherot basta semplicemente usare la potenza totale che è costante dividela per radical 3v per il cos phi rifasato imposto dal problema in questo caso la corrente diventa più piccola ovviamente diventa più piccola anche la potenza dissipata in linea e quindi il rendimento migliora migliora di un pochino ok va bene questo è tutto buon lavoro e buono studio grazie a tutti